Ciao a tutti, sono Baldaccini Davide, quest'anno corso nel Team Coretec e l'anno prossimo correrò nel Team Coretec Professional. Sono Giulio Masotto e anch'io come lui vengo dal Team Coretec e passerò nel Team Coretec. Ciao, sono Simona Raccani, ho corso per la ZALF e passerò in Eurocometa. Ciao, sono Stefano Gandin, anch'io dal Team Coretec e passerò Professional dal Team Coretec. Ciao a tutti, sono Andrea Pietrovon, vengo dall'Eurocometa Under-23 e il prossimo anno sarò con la squadra Professional. Ciao a tutti, io sono Gaia e quest'anno correo alla G-Inturance e l'anno prossimo correrò nella squadra World Tour che diventerà G-Studio Alvinstar. Ciao, sono Filippo Magli e quest'anno corso al Team Mastro Marco e il prossimo anno sarò al Green Project Bardiani. Ciao, sono Lorenzo Conforti e ho corso nel Work Service e il prossimo anno sarò al Green Project Bardiani. Ciao, sono Lorenzo Quartucci e vengo dall'Europa Petroli Firenze e quest'altro anno farò in Team Coretec. Ciao a tutti, sono Matteo Scalco, quest'anno corso con la Borgomolino e l'anno prossimo correrò con il Green Project Bardiani. Ciao a tutti, sono Luca Paletti e quest'anno corso nel Team Paletti e il prossimo anno correrò nel Team Green Project Bardiani. Ciao a tutti, sono Samaria Zambelli e vengo dalla Work Service e il prossimo anno correrò con la Coretec. Io sono Riccardo Lucca, anche io dalla Work Service e passerò al Green Project Bardiani. Ciao, sono Mattia Petrucci e ho corso col Team Colpa che correrò con il Team Green Project Bardiani. Ciao, sono Antonio Pucchio e vengo dalla Israel Continental e correrò il prossimo anno con la Q36.5 ProSight Team Team. Ciao, sono Davide Biganzoli e vengo dall'Under 23 Eolo Cometa e l'anno prossimo passerò per la Professional della Eolo Cometa. Ciao, sono Lorenzo Milesi e ho corso nella DSM e quest'anno corso nella World Tour della DSM. Ciao, sono Gianmarco Varofoli e ho corso nella Stana Continental e quest'anno passerò nella Stana World Tour. Ciao, sono Gaia Dallini e ho corso per la Isol Premark Vittoria e passerò nel Trixi Capedo. Ciao, sono Lorenzo Germani e ho corso per la Groupama FDG Continental e passerò nella World Tour. Ciao, sono Walter Calzoni e ho corso in Deglio Gallina e l'anno prossimo passerò in Q36.5. Ciao, sono Nicolo Paesini e ho corso per la QBK Continental e l'anno prossimo passerò nella Q36.5. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.